Benito, alla posta, qui va? Sì! Uè chi è stato? Io! E come ti vedi? Io con questa tifolezza che mi ritrovo mi vado a facciare te! Benito, basta! Benito, non ne posso più di fare questa nulla! E domani vedi quello che devi fare! Mamma, spegnarare tutta la mia roba! E nulla! E chi ci sente cosa credi? E cosa do spegnarare? Una villa, un palazzo, un miseratellino che mi hanno dato certo misericordia! Sì, e quando gli sono servite una nera, una misera! Sì, ma quando si vuole bene un uomo si fa qualunque sacrificio! Tu state insente perché a te mi tengo un uomo! E poi avanti! Ti ho detto tante volte che quando c'è il tuo marito in questa casa, non li vedete l'ubile, vabbè! E quando c'è l'uomo, lasciate parlare l'uomo! E si capisce? Ma perché Pasquale è un uomo? Ma perché, Fulio, non sono un uomo io! No, no, dico Pasquale è un uomo da litigare! Va bene, domani gli spegnerò tutto! Brava, Fulio! Anche a costo di farmi prestare i soldi da Fulio! Allora, Fulio, non scherzate sempre, però! Ma non date le retta, non si dite! Ehi! Non date le retta! Ehi! Ma è ricua! Ehi! 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 Basta! In questa casa! Siamo già in un barbello o no? No! Io sono un signore, non mi ci ritrovo in questo guadda buio! E che siamo quali chipellini! Quali chipellini! E che sono un chipellino io! Ma Spuai, in questa casa ti mangia pane e Fulio! Ma Spuai, te l'ho sempre detto, in questa casa ti mangia solo Fulio! E' sembrato di aver visto il padre della sposa, il cuore! Ehi! 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 Grazie. Grazie. Mi volevo dire che in questa casa non ci vengono. Grazie.